Buona giornata, prima edizione del TV giornale di Telestense di venerdì 24 luglio. Apriamo subito con le notizie che riguardano il maltempo in atto da questa mattina in tutta la regione, sono appunto in corso forti temporali non solo nel Ferrese ma in diverse zone dell'Emilia Romagna. Arpa E e Protezione Civile Regionale hanno diramato un'allerta meteo arancione per tutta la giornata odierna in seguito al passaggio di un sistema frontale che interessa tutta la regione. In corso fenomeni temporaleschi organizzati particolarmente intensi e sparsi con associate forti raffiche di vento e anche in parte grandinate. Nel corso della serata i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione. Oltre all'allerta arancione messa a punto per temporali, ne è stata emessa anche una gialla per criticità idrogeologica sul territorio. E parliamo adesso invece di sanità in particolare sugli aggiornamenti legati ai casi Covid, due nuovi casi in particolare nel Ferrarese e focolai a Bologna e a Rimini. Vediamo. Due nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati nel Ferrarese tra mercoledì e giovedì entrambi senza sintomi. Nessun nuovo decesso nelle ultime ore in Emilia-Romagna e sono questi alcuni dei dati emersi dal bollettino quotidiano di giovedì sull'emergenza coronavirus in regione Emilia-Romagna. Nella regione sono 55 nuovi casi positivi di cui 32 asintomatici. Dei nuovi casi 27 sono in provincia di Bologna circa la metà di cui 15 relativi al focolaio individuato circostritto in una crana e il capoluogo Felsineo. 11 positivi a Rimini di cui 9 collegati al focolaio nel residence abitato da cittadini stranieri e anch'esso questo focolaio sotto controllo. Effettuati più di 7 mila tra tamponi e testi aerologici in Emilia-Romagna nel giro di 24 ore. E parliamo adesso invece di politica e infrastrutture perché in tanti, ferraresi e non, in queste ultime settimane hanno subito disagi nel raggiungere lì di Comachiesi o anche la città di Ferrara percorrendo la superstrada. Il motivo appunto sono i cantieri che interessano l'arteria su cui soprattutto nella fine settimana vengono registrate tante code causa vacanzieri ma anche restringimenti di carreggiata che provocano appunto le inevitabili code. I consiglieri regionali in Emilia-Romagna, ovvero i ferraresi Marco Fabri e Marcella Zappaterra in una recente interrogazione hanno chiesto alla Giunta i motivi che spingerebbero l'ente gestore della superstrada, cioè l'ANAS, a organizzare i lavori di asfaltatura in estate in piena stagione turistica. Sentiamo in particolare la consigliera Marcella Zappaterra. Le manutenzioni sulla superstrada servono, trovo intellerabile che ANAS decida di farle sempre d'estate. All'interrogazione che abbiamo fatto ci hanno risposto che è una questione di meteo e di gradi per gli asfalti, però io francamente non mi faccio più prendere in giro, so perfettamente che le asfaltature non si fanno di inverno, ma durante i tre mesi di Covid c'è stata una primavera straordinaria. Era caldo, l'ho capito perché si devono sempre ridurre a luglio a fare le manutenzioni, ad aprire i cantieri, a farci viaggiare sulla superstrada con un'unica corsia facendo un'ora di coda, lo trovo intollerabile e ogni anno siamo di fronte a questo disagio e spero che ANAS la smetta. Torniamo su questa notizia se ci fossero aggiornamenti nelle prossime settimane, ma adesso invece parliamo di università perché è stata pubblicata ed è visionabile sul sito web del Comune di Ferrara, oltre che sul sito di Acer Ferrara, la graduatoria provvisoria delle domande raccolte con l'avviso pubblico per la concessione di contributi a favore di studenti universitari fuorisede iscritti all'Università di Ferrara nell'anno accademico 2019-2020, che si trovano in condizioni di inadempienza nel pagamento del canone privatistico di locazione. La graduatoria è redatta in forma anonima a tutela della privacy dei partecipanti, i quali potranno verificare la propria posizione utilizzando il numero di protocollo della domanda. Si tratta di un contributo economico erogabile grazie a risorse recuperate da fondi regionali assegnati al Comune di Ferrara dal 2012 e rimasti inutilizzati, spiega l'assessore comunale alle politiche sociali abitative Cristina Coletti, con cui il Comune di Ferrara è in sinergia con Acer Ferrara, ancora prima delle azioni regionali e cogliendo tempestivamente le necessità e i disagi degli studenti e delle loro famiglie in difficoltà a pagare anche soltanto una rata del canone di locazione a causa di un calo reddito legato anche alle conseguenze della pandemia Covid-19 con la conseguente chiusura delle sedi universitarie, ha inteso mettere a disposizione per sostenere gli studenti fuorisede iscritti al nostro Ateneo per l'anno accademico 2019-2020. Le domande pervenute sono 135, sono state tutte ammesse, salve le riserve da sciogliere. Il contributo sarà pari all'importo di una mensilità di canone con un limite massimo di 350 euro e sarà corrisposto direttamente al proprietario locatore dell'alloggio. La graduatoria diverrà definitiva il prossimo 10 agosto. Nel caso in cui le riserve fossero sciolte prima di questo termine, Acer inizierà a pagare i contributi prima di ferragosto. Il successo che il bando ha ottenuto, sottolinea l'assessore comunale ai rapporti con Unifè Alessandro Balboni, è una grande soddisfazione e dimostra la volontà del comune di Ferrara di dare un supporto concreto alla comunità studentesca universitaria della nostra città. Confidiamo che gli studenti fuorisede sentano la disponibilità e l'interesse dell'amministrazione nei loro confronti e continuino a scegliere di vivere e animare la nostra città. Adesso invece parliamo di agricoltura. C'è stato un doppio incontro ieri mattina in particolare per Confagricoltura, il primo a Ferrara dove si è tenuta l'assemblea dei delegati in fiera, mentre a Piacenza un appuntamento regionale per riprogrammare il comparto agricolo dell'Emilia Romagna. Vediamo. Confagricoltura Ferrara ha tenuto nella mattinata di giovedì 23 luglio presso Ferrara Fiere l'assemblea dei delegati dove si è discusso dell'approvazione del bilancio consuntivo 2019. Intanto il Consiglio regionale di Confagricoltura ha tenuto un incontro a Piacenza a cui hanno partecipato i vertici dell'associazione Emiliano Romagnola dove si è parlato di una nuova programmazione agricola da uno dei territori più colpiti dall'emergenza Covid. C'è soddisfazione per gli anticipi previsti dalla politica agricola comune e sui finanziamenti alle imprese ricevute dal piano di sviluppo rurale e ora servono una nuova programmazione dei contributi europei che ridia all'agricoltore dignità economica, liquidità alle imprese e soprattutto il rilancio del paese sul piano delle esportazioni. Infine le necessità idriche del territorio con la visita dell'assessore Mammi alla traversa di Sant'Agata sul fiume Trebbia, la presa d'acqua più antica del territorio piacentino, un'opera irrigua di importanza nevralgica per il territorio che alimenta circa mille ettari di terreni coltivati prevalentemente a pomodoro da industria. E adesso ci spostiamo a Cento dove è stato inaugurato il nuovo tunnel di sanificazione auto per i mezzi sanitari dell'azienda USL e delle associazioni di volontariato, un presidio unico sul territorio estense realizzato dall'azienda di Poggio Renatico di Giulio Barbieri. Vediamo. Viene utilizzato per abbattere la carica virale batterica presente sulle superfici dei veicoli che lo attraversano per mantenere sempre alto il livello di sicurezza del personale dell'azienda sanitaria territoriale di Cento e non solo. È il tunnel di sanificazione auto installato presso la sede CMV di Cento prodotto dalla Giulio Barbieri SRL di Poggio Renatico. È nato, come dicevo appunto nella presentazione, 72 ore prima del lockdown. Tunnel li facciamo da 30 anni di ogni tipo, dimensione e misura. Abbiamo fatto altro che aggiungere un sistema di nebulizzazione studiato con una macchina che nebulizza molto evoluta, collaudata e soprattutto siamo riusciti con tanto coraggio e tanta volontà di trovare anche il liquido da poter nebulizzare sulle persone. Abbiamo già fatto dei test alla stazione di Bologna, alla stazione di Termini, presente il ministro De Michelis. È andato benissimo e abbiamo già fornito i tunnel anche per la metropolitana di Milano e li stiamo inviando in tutto il mondo. Se ne è nata proprio dall'emergenza del Covid-19, abbiamo avviato subito una raccolta fondi per chi vorreste aderire, popolazione, autorità. In tanti hanno risposto, con piccole donazioni, dei bambini 5 euro, arrivare a istituti bancari, tipo quello che oggi vede protagonista come sponsorizzazione che è la Cassa di Spamio di Cento e che oltre a questo ha comprato anche delle macchine per la sanificazione dell'ospedale e delle case di riposo. Abbiamo pensato appunto di portare un aiuto soprattutto a queste persone che sono sulla strada e rischiano più di tutti. Cominciare dalle forze sanitarie, operatori sanitari, dalle forze dell'ordine e i volontari che hanno svolto un compito molto importante nell'emergenza Covid. Quindi daremo questo servizio che ripeto è gratuito. Sanificare i mezzi per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'operatività delle associazioni presenti in tutta la comunità centese, dall'azienda USL all'RSA, dai centri socio-riabilitativi alle forze dell'ordine sino ai mezzi comunali. Nel confronto di tutto quello che c'è in commercio è che il nostro si apre, si chiude e si può veramente ripiegare in poco tempo e si installa in un quarto d'ora. Quindi è un tunnel che può essere anche itinerante, può essere spostato e soprattutto sempre a differenza degli altri noi abbiamo fatto le prove di efficacia del prodotto all'interno dei nostri tunnel. Quindi il prodotto è stato testato con un laboratorio di Verona dove ci ha dato la massima sicurezza quindi siamo dal 90 al 99 per cento di efficacia e di efficienza. E quindi più che un prodotto vendiamo un sistema, una soluzione per risolvere o perlomeno limitare un problema che oggi abbiamo tutti. L'orgoglio è soprattutto un comune pilota, quindi con questo e ovviamente con la collaborazione di Giulio Barbieri lo lanciamo anche un po' come progetto a tutti gli altri comuni italiani. Abbiamo pensato da subito nei mesi del lockdown a pensare al dopo, al domani, quindi al futuro e quindi abbiamo ritenuto di investire sulla sanificazione, sull'igienizzazione e oggi siamo qui per un tunnel legato ai mezzi di trasporto, alle macchine, alle ambulanze, alle forze di polizia, quindi le auto delle nostre forze dell'ordine per poter appunto sanificarle. Da cento torniamo a Ferrara per parlare di politiche abitative con questa dichiarazione. Come amministrazione comunale siamo impegnati a portare avanti azioni tempestive puntuali a favore di cittadini e famiglie in difficoltà nel trovare soluzioni a necessità fondamentali come la casa. Lo strumento per affrontare e concertare le politiche e gli interventi della nostra realtà è certamente il tavolo territoriale che coinvolge enti e sindacati. Siamo la prima amministrazione comunale ad aver convocato il tavolo per trattare le modalità attuative inerenti al programma di recupero degli alloggi vuoti con le risorse che verranno stanziate dalla regione, con quindi un'azione unica e tempestiva a livello regionale per i temi trattati, andando a sviscerare e a mettere in campo risorse, progetti e percorsi operativi mai portati avanti. Queste le dichiarazioni dell'assessore comunale Cristina Coletti a conclusione della riunione del tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative svoltasi ieri, giovedì 23 luglio, nel corso della quale sono stati informati i comuni del distretto centro-nord dei sindacati degli inquilini e dei proprietari maggiormente rappresentativi sul territorio sulle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale di Ferrara. Il tavolo territoriale ha affrontato anche il tema relativo alla quota di fondo affitto 2020 riconosciuta dalla regione e comuni del nostro distretto. Le risorse statali e regionali messe a disposizione per il distretto centro-nord e che consistono per Ferrara in euro 476.055,71 oltre ai residui non spesi del fondo affitto 2019 saranno gestite da Acer sulla base della convenzione già approvata dalla Giunta per l'attivazione di entrambe le misure di sostegno alla locazione previste dal fondo di quest'anno. Contributi ai locatori per la riduzione dei canoni e la eventuale rinegoziazione dei contratti da liberi a concordati, contributi diretti alla locazione. Già il prossimo venerdì 31 luglio è prevista la pubblicazione del bando per la raccolta delle domande finalizzate a ottenere il contributo per la riduzione dei canoni. Per questo bando non ci sarà una graduatoria ma in base all'ordine di presentazione verranno erogati i contributi direttamente da Acer dopo aver effettuato le necessarie verifiche dei requisiti. A seguire verrà pubblicato il secondo bando finalizzato alla raccolta delle domande per accedere ai contributi diretti alla locazione. Le domande presentate per questo bando saranno inserite in un'apposita graduatoria e i relativi contributi potranno essere erogati come disposto dalla Regione che ha inteso dare la precedenza alla riduzione dei canoni solo dopo tre mesi dal bando per i contributi alla riduzione del canone. Il Comune di Ferrara si è fatto parte attiva per rendere ammissibile al contributo anche le rinegoziazioni dei canoni intervenuti prima dell'entrata in vigore della delibera della Regione, rinegoziazioni comunque dovute agli effetti del Covid. Dalla circolare della Regione del 14 luglio questa possibilità pareva negata e poco dopo l'incontro del tavolo appunto avvenuto ieri mattina è arrivata l'amministrazione comunale, all'amministrazione la notizia che la Regione ha accettato l'istanza del Comune di Ferrara che chiedeva di accogliere questa possibilità per le rinegoziazioni avvenute post lockdown ma prima della delibera regionale anche per venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei sindacati, dei proprietari e degli inquilini che si erano impegnati in questo senso. Questa è un'ampia sintesi di quanto è successo ma vi ricordo che tutti i dettagli e ulteriori informazioni le trovate sul nostro sito telestense.it. Parliamo adesso invece di un breve saggio storico che ci porta indietro di quattro secoli alla peste del 1630, una peste di cui parla anche Manzoni nei Promessi Sposi, peste che ricordiamo colpì anche la città di Ferrara. Un breve saggio di cui autrice Daniela Frati, medico e ricercatrice di storie della medicina ferrarese, che qualche mese fa ha scoperto l'informativa segreta inviata al cardinale Magalotti, vescovo di Ferrara, sul processo che il Manzoni ha reso famoso nella storia della colonna infame. Lo speciale Tu per Tu andrà in onda questa sera alle 22.20, ma ne vediamo adesso un estratto. Questo saggio nasce da delle ricerche che già l'anno scorso stavo facendo a proposito di guaritori e guaritrici ferraresi fra 4 e 600 e quindi da delle ricerche fatte in curia perché soprattutto la chiesa segnalava a chi lavorava a segnare le storte, a levare la paura, a fare questo tipo di attività che è un'attività molto antica, verosimilmente pre-biblica. Una relazione tra Milano e Ferrara nell'anno terribile della peste del 1630 che viene fuori da questa informativa segreta inviata al cardinale vescovo Lorenzo Magalotti che racconta che cosa? Racconta intanto la sentenza perché è un'informativa sulla sentenza milanese, sul dispositivo di sentenza, sulla colonna infame, su quello che viene deciso in sentenza dal senato milanese, ma anche i pettegolezzi che verosimilmente circolavano per Milano perché si accenna addirittura ad un'accusa di necromancia che non è però l'accusa che compare nei verbali di interrogatorio. loro furono accusati e condannati per unzioni pestifere, cioè apportatrici di peste e non per necromancia, cioè preparazione di prodotti che uccidevano utilizzando parti del corpo dei morti. Il saggio riporta le ricette salvifiche, cioè gli antidoti, ma anche le ricette velenose dei cosiddetti untori. Che fine hanno fatto queste ricette, il complesso delle ricette di cui tu porti alcuni elementi? Ecco, io posso dire che le due ricette salvifiche dei due elettuari che preparava Gian Giacomo Mora nella sua bottega anche di speziale, anche se verosimilmente non aveva l'autorizzazione a fare lo speziale, però lui faceva questi due elettuari per difendersi. Queste due, delle altre non lo so, si dichiara nel dispositivo di sentenza stampa che furono acquistate dal ricettario fiorentino. Pochi giorni dopo che erano stati uccisi due, Milano vende le ricette. Questo è un aspetto veramente, è una pena accessoria direi. Appuntamento dunque questa sera a 22.20 su Telestensi. Adesso invece torniamo a parlare della sfilata di CNA e della associazione nazionale degli acconciatori che si terrà domenica sera a Comacchio ai Tre Ponti. Sentiamo gli artigiani che collaborano e partecipano all'evento, realizzato anche per firmare una ripartenza per le attività colpite duramente per la chiusura dovuta all'emergenza Covid. Vediamo. Io sono Sandra Scaroni, della gioielleria Scaroni di Migliarino. Devo dire che questa situazione ci ha creato molti problemi. Una difficile ripartenza perché dopo tre mesi di chiusura è stata molto dura. Tutti i matrimoni rimandati, quindi potete immaginare tutte le fedi da pagare e devono essere consegnate il prossimo anno. Quindi abbiamo tante difficoltà. Quando ci è stata chiesto di partecipare a questa sfilata, che noi in genere partecipiamo a questi eventi perché siamo dell'idea che dobbiamo uscire dal nostro orticello e comunicare le nostre creazioni a più gente possibile. Quando mi hanno chiesto di fare questa sfilata ho fatto un po' di conti, spese, adesso non è il momento, abbiamo tante spese, però ho detto non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo dare un messaggio, un messaggio che dobbiamo rinascere. Noi non ci siamo resi, quindi non presenteremo cose déjà vu o cose vecchie dell'anno scorso. Noi abbiamo reagito e presenteremo cose nuove perché vogliamo accarezzarvi l'anima. Confidiamo nell'aiuto dei media che voi siete la nostra voce. Confidiamo nell'aiuto delle istituzioni. Noi non chiediamo soldi ma un alleggerimento fiscale. Questo ci potrebbe permettere di andare avanti. Questa sfilata ci permette di arrivare nelle case della gente perché adesso con il Covid più di tanto non ci potrà essere una platea molto ricca. Però nonostante tutto noi arriveremo nelle vostre case grazie ai media, in questo caso telestense. Questo dunque è l'appuntamento per domenica sera. Invece vi ricordo il prossimo appuntamento col TV Giornale questa sera alle 19.30. ma vi invito a seguirci anche sul web. Siamo su telestense.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito. A tutti ovviamente un buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito.